Scusa perché uno fa di soldi, vede tutte le persone, si avvicini, e allora uno si dovrebbe qualificare, io sono il proprietario, le serve qualcosa. Non so perché se lo essi, se pensavo di quelle figlie, si sarebbe già portata a posto. Ah va bene, io ce ne tengo un po', e allora mo lei sta cercando di fare delle cose delle cose per poi cercare di portarle al canino, da qualche parte, per un'abduzione, qualcosa del genere. Perché ti chiedi, spesso sono un cane che deriva comunque al bucchia, la prendo in collate, no no, non qua, perché io l'ho visto, no no, non questo, io l'ho visto, io l'ho visto, io l'ho visto, io l'ho fatto, io l'ho fatto, io l'ho metto alla strada. Uh, uh, poi l'hai sceso col cane su, perché va qua avanti i piedi, quelli sani che partono con lui, non vedete, avanti, eh, e l'ha visto là sottoseduto, e poi poi vediamo scendere, vediamo se è morto, se è vivo, e se è morto. Abbiamo messo dell'acqua, un po' di immagini, ce l'abbiamo visto, c'è stato quelli pubblici, là sotto là, ma quello questo non si è aperto dove sta il mercato, quello strada è l'acqua, e lui ha chiuso, però, ma quello Pasquale, quando Pasquale, parliamo ultimamente, tu quando vai a comprare, vai a comprare due cinesi, soltanto lui, ti dici a darà, oh, scusami, Luca, perciò, tu facciolo, tipo, è quello che posso, Ho chiusato a comprare due cinesi, ma non ti dici niente. Vieni Ceccio. male come ti ti dici a te, sai, qualcosa che ti dici, il sonnando tu, ma non ti dici a te. Bravo. Bravo Ceccio. Bravo Ceccio. Brava. Sì, ma puoi tornare? Sì, ma puoi mangiare? Sì? Sì. Ti ho messo i croccantini. Sì, vieni. 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 Guarda qua. Guarda. Vieni, guarda. Oh, hai visto? Vieni. Vieni. Buono questo. Sono qua. Guarda. Va, vai. Ti lascio in pace. Dove vai? Siamo troppi. Vai a mangiare, vai. Vai di là. Eh, perché ti siedi, ti hai risolto. guarda, vai a mangiare, vai a mangiare, vai a mangiare, vai a mangiare, vai a mangiare. Ti ho messo l'acqua. Che ci fai qua fuori? Non posso farti entrare. Vai a mangiare. Va, vai a mangiare. Ma. Che ci... Grazie.